Realizzare opere d'arte utilizzando esclusivamente materiali naturali reperiti sul posto, riscoprendo un luogo della città non solo ricco di verde, ma anche di arte e storia, lanciando un messaggio di rispetto e armonia con la natura. Questa è la filosofia di Humus Park, meeting internazionale di Land Art in programma dal 14 al 19 maggio a Pordenone nel Parco del Museo Orcologico di Torre. L'iniziativa, arrivata quest'anno alla terza edizione, è stata presentata dall'assessore comunale alla cultura Claudio Catarruzza e dai direttori artistici Gabriele Meneguzzi e Vincenzo Sponga. Parte oggi con la conferenza stampa la terza edizione di Humus Park, un omaggio alla natura ma anche alla Land Art con la presenza di artisti provenienti da diverse parti del mondo e con la valorizzazione dei giovani delle nostre scuole e dell'Accademia di Brera e dell'Università di Venezia, quindi un'iniziativa molto importante che si svolgerà qui a Torre, che ha anche come obiettivo, oltre che l'espressione artistica, anche la valorizzazione del Parco di Torre e del Museo Orcheologico e quindi riteniamo che questo sia il miglior viatico per iniziare la stagione di avvenimenti culturali che caratterizzerà la nostra città. Dal 14 al 19 di maggio sarà possibile, ci sarà la materializzazione delle opere che poi sarà possibile continuare ad ammirare sino a estinzione naturale in autunno di quest'anno. Quali sono i due punti principali di questa manifestazione? Allora, innanzitutto riportare l'uomo vicino alla natura, considerando che si sta perdendo un momentino questo contatto e si sta prevaricando questa cosa. In secondo luogo, la possibilità di portare i giovani all'interno di questo rapporto che secondo me stanno perdendo, adesso non sto discutendo le cause, ma si sta scollando questo rapporto tra giovani e natura. Loro pensano ormai con un concetto computeristico che si stacca dalla natura. Loro pensano ormai con un concetto computeristico che si stacca dalla natura. Loro pensano ormai con un concetto computeristico che si sta perdendo il generell il governo o potesse di pincere, mentre si stacca dalla natura, insieme a un concetto computeristico che si stacca Louise Grazie.